Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo la nostra ricetta del limongello fatto in casa. Per la nostra ricetta utilizzeremo inizialmente 500 ml di alcol buon gusto e 120 grammi di bucce di limoni. Con un coltello o un pilapatate tagliamo la buccia del limone. E' importante prendere solo la parte gialla e non quella bianca che si trova più internamente perché risulta essere molto amara. Abbiamo ricavato i nostri 120 grammi di bucce di limoni. Adesso li mettiamo a macerare in un barattolo insieme all'alcol per 10 giorni in un posto buio. Per i limoni privati delle bucce potete utilizzarli in cucina o anche realizzare come abbiamo fatto noi delle gustose ricette. Per queste ultime troverete i link nel box sotto. trascorso il tempo di macerazione prepariamo lo sciroppo utilizzando 800 ml di acqua e 400 grammi di zucchero. Trasferiamo questi due ingredienti in una pentola, mettiamo sul fuoco e facciamo sciogliere lo zucchero. Quando lo sciroppo è pronto aspettiamo che si raffreddi completamente prima di aggiungere l'alcol filtrato con un colino a maglie strette e rivestito con uno strofinaccio in cotone. Ebbene amici se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!